Vorrei dedicare questo prossimo cartone al mio amico Pluto Ehi Pluto, vai a prendermi il giornale? Guardate qua Si riempie di acqua e diventa pesante In questo modo va giù che è una meraviglia Il problema è che poi non torna più su Per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame Perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno